Sosietin è per ribadire il nostro sì alla vita e no alla politica della morte. Abbiamo iniziato da Crotone e poi continuerà facendo il giro di vari punti della Calabria, semplicemente perché a Crotone qualche mese fa i giornali hanno parlato di un dato scandaloso che sarebbe quello del numero di aborti minori rispetto al resto d'Italia. Quello che potrebbe rappresentare un fiore all'occhiello per la nostra città viene epitetato come scandalo vergognoso. A noi questo non piace, non ci stiamo.